Io sono Riana Persico, artiste open source, abbiamo iniziato a lavorare giusto oggi, abbiamo iniziato un processo di collaborazione con due meravigliosi istituti, il Garibaldi e l'Aristofane, sul tema dell'identità, che ci porterà in circa tre giorni a creare un'opera collaborativa per il New Media Art Festival. Siamo partiti dal concetto di identità, che da sempre è fondativo per tutto quello che facciamo, per capire e anche per posizionarsi nel mondo, e anche interrogandoci su una domanda apparentemente semplice ma complicatissima che può cambiare tutto, cioè dove inizio io e finisci tu? Guardando come le tecnologie hanno abilitato nuove forme di possibilità di identità, da quelle anonime a quelle collettive, a quelle nomadiche con cui ci confrontiamo ogni giorno, abbiamo anche approfondito questi concetti, siamo partiti proprio da questa riflessione, per farlo diventare lo sfondo concettuale di questa operazione. In quest'opera utilizzeremo delle tecnologie un po' complicate, di solito sono molto complicate, come quelle delle algoritmiche che si utilizzano per fare il riconoscimento facciale, o in generale della computer vision, che vengono utilizzate per tantissimi scopi diversi, insomma dalla sicurezza negli aeroporti fino a classificare attraverso l'intelligenza artificiale oggetti o immagini o cose del genere. Quindi ricontestualizzeremo queste tecnologie di solito così complicate in ambito artistico, non solo è importante perché impariamo a fare delle cose usando delle tecnologie in modo creativo, ma anche perché riusciamo a dare ai ragazzi degli strumenti per considerare in modo nuovo, anche più critico, il mondo che li circonda, come magari non sospettavano che fosse fatto in questo modo. Grazie.